Il Ministro dell'Integrazione non ha dato la mano al Capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale, Alessandro Morelli. Su questo episodio lei ha chiesto spiegazioni al Governo in Aula al Senato. Sì, abbiamo chiesto una spiegazione al Governo proprio perché riteniamo che il Ministro quel giorno era a Milano in veste istituzionale, quindi non in veste privata, quindi in veste la signora Chienge come Ministro. E come tale il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale a Milano si è presentato per salutarla in modo istituzionale, quindi in rappresentanza anche di tutti quei cittadini milanesi che hanno votato la Lega. La cosa che ci lascia stupiti è stato il fatto che il Ministro abbia utilizzato la scorta per protezione nei confronti di Alessandro Morelli, che ci sembra tutto tranne che un malintenzionato, anzi una persona educatissima, e in questo caso purtroppo il Ministro non ha utilizzato la stessa educazione che ci hanno insegnato i nostri genitori. La cosa che ci sorprende è che l'atteggiamento del Ministro va in controtendenza rispetto a quello che sta portando avanti in questo momento il Governo, cioè un discorso di apertura, di cercare di andare contro la violenza anche verbale che c'è stata nell'ultimo periodo. E anche lo stesso Presidente della Repubblica l'aveva detto durante il suo discorso di insediamento. Purtroppo il Presidente eletta fa una cosa e il Ministro ne fa un'altra.